Ciao! Sono Virginia de Pasticciosti.it e oggi faremo un sole con gli spaghetti! Seguici! Ti servono solo un cartoncino bianco, un cartoncino giallo o color oro, un bicchiere, colla, forbici e degli spaghetti grossi. Vanno bene anche le linguine o le bavette. Aiutandoti con un bicchiere, traccia un cerchio sul cartoncino giallo, quindi ritaglialo. Prendi un cartoncino bianco, che avrai precedentemente colorato di azzurro con i pastelli, quindi incolla al centro del foglio il tuo cerchio giallo. Ora procurati degli spaghetti grossi o delle linguine e spezzali circa a metà, ricavando così varie lunghezze. Stendi un po' di colla attorno al cerchio centrale, quindi incolla uno alla volta gli spaghetti, disponendoli a raggera attorno al cerchio. Come avrai già intuito, gli spaghetti di varie lunghezze saranno i raggi del tuo sole. Guarda che bello! Quando avrai completato tutti i raggi, fai indossare al tuo sole un bel paio di occhiali scuri, quindi disegnagli una bella bocca sorridente. Carino, vero? Provaci anche tu! Con il sole di spaghetti, la tua giornata diventerà ancora più splendente. E dopo, se lo vorrai, potrai anche gustarti gli spaghetti che sono rimasti. Buon appetito e buon divertimento con il sole di spaghetti dei pasticciotti. Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare un mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.